C'è sempre un compromesso grande. Inoltre è una via classificata C che, tradotto dal tecnichese, vale a dire che non sono previsti al momento attraversamenti ciclopedonali. Una pecca non da poco per una città che vuole sempre più agevolare la mobilità green e le due ruote anche per andare a scuola. Questo è quello che un sempre più nutrito gruppo di abitanti pensa del nuovo troncone dei interquartieri, ormai quasi ultimato e di prossima apertura, che deve collegare chi proviene da Monte direttamente con via Papiria. Per chi si sposta in auto una manna dal cielo, ma per i ciclisti e pedoni una vera trappola micidiale. Premesso, noi non è che siamo contrari a nuova realizzazione. Quello che non ci piace è che questa opera impedirà di fatto la viabilità pedonale ciclabile lungo queste vie, via Roma, via 4 Novembre e via Bellandra, che invece prima era permessa. Allora ci chiediamo, una nuova opera deve aggiungere qualcosa di nuovo? O se non aggiunge niente non deve elevare dei diritti? Perché qui di fatto qual è il problema? Non attraversamenti ciclabili e pedonali. Queste rotatorie sono molto strette. Se noi le guardiamo, in molti tratti delle rotatorie, i garrail sono praticamente a ridosso della lina bianca che delimita la carreggiata. I miei figli vanno a scuola, cioè al mattino questi ragazzi in bicicletta, ora sera quando vanno a studiare degli amici, non potranno percorrere in sicurezza. Quindi non ne sarà solo problematico l'attraversamento, ma tutto il giro della rotatoria. Pensiamo di notte. Bene, io mi sono recato quest'estate dall'assessore Fanesi e qual è stata la sua risposta? Effettivamente ha confermato il problema della sicurezza. La risposta dell'assessorato è stata che i residenti di questi quartieri dovranno recarsi a Fano attraverso Sant'Orso, perché dal Codma per via Bellanda verrà creata una pista ciclabile. Non è la soluzione al nostro problema perché non possiamo dire ai nostri figli che per andare a scuola alla Padalino, che è di qua, o andare a Fano dovranno recarsi al Codma, poi Sant'Orso e da Sant'Orso attraverso a Fano. Voi dalle parole e dalle considerazioni siete anche passati ai fatti, state raccogliendo delle firme proprio per evidenziare questo problema. Esatto, io sono partito con una raccolta firme, ma la cosa bella è stata che la raccolta firme si sta allargando a macchia d'olio dal mio foglio. In realtà poi sono stati fatti altri fogli, altre fotocopie, perché altri miei amici stanno girando il quartiere per raccogliere firme e devo dire che sempre più amici mi stanno chiedendo fotocopie. E poi arriveremo anche a Bellocchi, perché la viabilità a questo problema esiste a Bellocchi, ma esiste anche a Centinarola nella via di Monfalcone e nelle sue traverse. Cioè è un problema di viabilità che riguarda tutta Fano fuori da questo tratto di interquartieri.